eppi l'ho tenato le pizza le vantate e parte la stessa adesso suonano il campanello adesso tu fai una grande adesso dillo vai parti dillo Priscilla la scoppa che squidla benissimo perfetto com'era Priscilla la scoppa che squidla perchè squidla no ma deve venersi la scoppa e quella che dice la prima l'audio e già si insegna il l'audio cazzo l'audio micidiale è importante guardate che tu di chi sapete l'audio quale Claudio perchè mi hai messo questo problema ma tu cosa stai facendo adesso scusa stai io ce l'ho con Claudio ma cosa stai facendo non è che stai scoppando no però e cos'è allora in mano e cos'è nelle mani cos'è questa una scopa Priscilla Priscilla ma c'è un campanello ma c'è un campanello una scopa col campanello e come si chiama questa scopa col campanello Priscilla la scopa che squida basta chiudi stop e che e Grazie a tutti.